Al presente i bersedari ci dicono qualcosa. Ecco, questi eroi, diciamo pure questi eroi che danno se stessi, pronti anche a dare la vita, a restare là al posto dei cristiani schiavi, ecco, ci dicono qualche cosa di importante. Cioè si additano una strada che è prevalente per loro, che per loro è assoluta ed è quella la prevalenza della salvezza eterna su qualunque altro valore della terra. I coloro sono pronti a perderci, anche se è nata subito l'obiezione che è ovvia, forse viene anche a noi oggi. L'obiezione, ma perché arricchire loro e impoverire noi, mentre si potrebbe prevenire la presa degli schiavi? Con una serie di vascelli che impediscono l'uscita dei corsari con le loro navi, che impediscono, ma come si fa a impedirle? È una lotta con loro. Tutti questi soldi utilizzati per le missioni potrebbero essere utilizzati per assoldare una flotta che li controbatte. Ecco, ma capite che è una contrapposizione di forze questa. E la contrapposizione di forze è la violenza che non fa che generare altra violenza. Loro stessi, nelle loro operi, hanno teorizzato proprio, hanno esplicitato questa cosa, che bisogna fare queste spedizioni perché bisogna tenere viva la speranza negli schiavi. Tenere viva la speranza, tenere viva la fede nella vita eterna, che risiede soltanto nella fede in Dio perché è l'unico redentore. Loro sono mercedari, vanno, sono redentori, ma l'unico vero redentore è Gesù Cristo. E quindi la loro missione è tenere fede, viva la fede in Gesù Cristo. Grazie. 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 Grazie.